In arrivo altri 4 milioni di euro per la competitività delle imprese abruzzesi, un altro passo avanti? Assolutamente sì, stiamo sviluppando una serie di attività per ottimizzare la spesa, circa il piano di sviluppo rurale 2007-2013, in un solo anno abbiamo fatto avanzare la spesa di oltre il 16%, circa la dotazione complessiva dei 426 milioni della vecchia programmazione, altre 73 imprese agricole abruzzese hanno beneficiato delle misure previste per la competitività abruzzese nel settore agricolo. Stiamo sviluppando una serie di altre attività per l'agriturismo, per tutta una serie di misure che sono state previste nel vecchio PSR. Inoltre in questi giorni stiamo negoziando con Bruxelles la definitiva chiusura del PSR 2014-2020, altri 432 milioni di euro a disposizione della comunità agricola abruzzese, che sicuramente sarà protagonista nei prossimi anni a livello economico generale.